La sede è storica e la sede amatissima dal pubblico di Pesaro e questo ci ha motivato a un nuovo impegno per garantire la città a grandi eventi. Quindi il programma l'abbiamo per ora incentrato su questo primo periodo fino a fine anno, con 5 appuntamenti di altissimo profilo, come è tradizione dell'ente concerti. Nel mese di ottobre avremo due appuntamenti, di cui uno che mi vede coinvolto come direttore e sassofonista solista con l'Orchestra Filarmonica Marchigiana, un progetto che ho in qualche modo sollecitato io all'orchestra, che ho portato anche in tanti teatri e ha avuto un grande successo, e imperniato sulla musica da film. Quindi la musica da film con brani classici presi da grandi registi come Kubrick per il Barry Lyndon, o anche come nel caso di Shostakovich, e invece proponendo anche delle partiture che i grandi compositori hanno scritto espressamente per il cinema, come Nino Rota e Ennio Morricone. Questo è il primo appuntamento del 10 di ottobre che apre la stagione. Sempre in ottobre avremo il ritorno di Victoria Mullova con un ensemble, una delle più grandi violiniste del mondo, è tanto, tanto apprezzata dal pubblico pesarese, è stata già ospita almeno tre volte a Pesaro. Il programma proseguirà poi in novembre con il concerto del Metamorphose Ensemble, è un gruppo formato da cinque solisti veramente di elevatura incredibile, e proporranno delle elaborazioni di grandi partiture del balletto. Andiamo avanti il 10 dicembre con Rami Mbarami, che è un pianista che è molto legato alla musica di Johann Sebastian Bach, pensate che è stato lanciato nei primi anni della sua, da bambino, da Herbert von Karajan, è un pianista veramente straordinario, specializzato in questo repertorio, e proporrà un programma interamente bacchiano, fino all'ultimo appuntamento della stagione prima di Natale, con il concerto di Natale, con Francesca Dego. Francesca Dego non ha bisogno di presentazione, anche lei è stata già al Teatro Rossini, e la violinista, in senso declinato al femminile, è numero uno in Italia, giovane e con un talento incredibile. E qui sarà un programma classico, molto molto bello, lei eseguirà il concerto in sol di Mozart, un grande capolavoro.